Montoro appoggerà il Comune di Solofra nel ricorso al TAR? Sicuramente faremo tutte le azioni possibili, ma non solamente in termini di solidarietà, in termini di sostegno a quello che il Comune di Solofra sta facendo, ma in termini di parte attiva, perché le ho detto che noi siamo una parte importante anche come utenza del servizio, come parte interessata al buon funzionamento di un ospedale che sarebbe riduttivo immaginarlo come l'ospedale solamente del Comune di Solofra. È un ospedale che ha come riferimento un areale molto vasto, credo che il Comune di Solofra si stia muovendo bene, cercando anche di coinvolgere in queste azioni positive tutti i soggetti istituzionali interessati. La Morgante deve dimettersi? Ma no, io non penso che siano queste cose che determinano poi i risultati migliori. Io credo che ci sia il bisogno, la necessità di una maggiore comunicazione con i soggetti istituzionali allorché si sceglie il futuro di un ospedale di zona come quello di Solofra. Tutto qua, dalla discussione, dagli incontri dei soggetti sociali, dei soggetti istituzionali con chi ha il potere manageriale della gestione che possono venire i risultati più proficui. Grazie a tutti.